Ha realizzato la sesta rete Lele, il numero 7, Lele, Giallonardo, Emanuele e prima di lui il numero 10, Michele e Daniello. Mangano le riprese di questi due gol. Adesso c'è il campio. Lele, facciamo un applauso a Lele. Ecco c'è il campio, Lele, entra il numero 17, Alessandro Ramondi, ed esce il numero 7, Lele. Ecco il campio, bravo Lele. Bravo Lele. Lele, guarda noi. Guarda noi. Prepara il portafogli. Campio.